Vi presento il mio ultimo lavoro, intitolato Precious Portraits, cioè ritratti preziosi, o meglio, piccoli ritratti preziosi. Ritratti perché ritraggono dei personaggi famosi da imperatori, filosofi o divinità, ma ritraggono anche animali e altri personaggi, e preziosi perché sono fatti sempre in pietra preziosa o semipreziosa, quello è il parametro principale, e soprattutto sono piccoli, cioè vanno da, non lo so, un centimetro fino a 10-11 centimetri, ed è una pratica che l'uomo ha fatto quasi da sempre. Abbiamo degli esempi di 40.000 anni fa, come la Venere di Willendorf, cioè quella piccola statuetta di quella Venere, di quella donna molto formosa, molto cicciona, che dava appunto la sensazione di essere molto in salute, per cui pronta a dare molti figli, no? Quella era la salute, oggi le donne magre sarebbero viste con gli occhi di allora come delle malate, per esempio, ma non si può dire. Poi ci sono stati tutti i periodi protostorici, preistorici, insomma, che hanno appunto anche prodotto tante cose in avorio, in pietra, per arrivare a Babilonia, Egitto, ma soprattutto quando è che esplode la vera moda del piccolo ritratto prezioso fatto in maniera veramente pregevole, preziosa, costosa, cioè una cosa di lusso, è stato durante appunto il periodo tolemaico egiziano, ellenistico e poi romano. Per cui questi piccoli elementi di propaganda, anche politica, erano, e spiego nel libro per la prima volta, spiego il loro ruolo, il ruolo nelle varie posizioni, cioè in casa erano delle decorazioni per mobili o per piccoli larari privati, per cose religiose appunto erano per i larari o per i templi, per questioni politiche erano montati su scettri, su corone, perché dovevano rappresentare gli avi o gli dèi o i personaggi politici precedenti. Per cui il libro è abbastanza interessante per via che per la prima volta sono stati messi in un solo volume quasi tutti, perché ho cercato di reperire tutti i piccoli ritratti preziosi nelle collezioni pubbliche e private nel mondo, ed è il primo libro ad averne 600 tutti insieme, rappresentati a colori e ben descritti e con una scheda abbastanza precisa. Dunque è un volume interessante che vi invito a guardare, ad acquistare. Grazie.